ma c'è solo rai film è disponibile, fa conto te si si stiamo facendo tutti io te li stavo facendo la oh cazzo si esso da abito merda 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 buono chi c'è la mia squadra oh squadra qui c'è guarda guarda la squadra no 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 c'è stata la granata a casa aspetta aspetta non c'è nessuno se sei tedeschi non ho fatto che ho fatto un timpile un'altra volta mamma mia che scatto io so che ciò la mia squadra molto più sicuro vedere sto sbagliando ecco perchè come dire che in squadra se l'etro non successe non posso provvedere gli obiettivi tipo am uti tiri sono sulla mappa ttt esatto la scuola se la mia squadra loro che vengono fuori tutte le robe su sti anche chi i membri della squadra ma sai che ci sono le finestre la sopra che ti non ho più di chi sono aspetta, la finestra è una russa direi merda non c'ho come no che sei inutato non si non 11 c2 bello bello lì nata il sto tirando giù come mostro il centro c'è c'è sempre il capo che butta giù la chilleria ma non c'è la mia vita di spostro che ho dietro l'angolo qualsiasi chiuso ma cavolo perchè i granati mi hanno messo a me che tiri fuori su testo non non ancora vivo chi l'assist si l'ho preso no c'è messo il fumo non vedo niente porca no scuola se ci sono le scalette se lo è stata atti con la suddita mi sa che quello che faccio adesso credo che intendi questo è davanti fuori del fuoco l'incendio attenzione attenzione si 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 sono ritori problema che sopra ci sarà la porta ci sarà pieno di testo poi c'è una porta pericolo 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 la stessa scala 20 volte 6 sto salendo aspetta solo l'ultima ti vedo ti vedo pericolo non sei che sono sul tetto io tipo occhio sono qui posso andare su tipo entra entra non c'è fatto pericolo come io sono la porta ecco qua sono io qua vieni qua vieni qua vieni qua c'è gente occhio guarda guarda la sguida della porta vieni puoi sempre uno ottimo tiene un altro no steve ti sei messo avanti scusa scusa eh scusa mi sono messo scusa scusa ma tranquillo non uccisi altri due tre no no vai mi chiedi scusa tutti l'ho ucciso io era un steve scusa ti ucciso ti sei messo davanti dica 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 vede giungo con il posto lì avessimo un mp 40 un mg 32 td ma quella mg immagino ti sto sentendo ti sto sentendo un ucciso un ucciso merda non abbiamo conosco nato nel posto sbogliato aspetta aspetta stiline su ti prego mi sto cagando addosso eh lo so ma aspetta un attimo che non trovo buono arrivo no 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 ma hd ma qua li sto facendo fuori come le mosche di avanti stiline che non ti vedo ma tu ma ma sono morto perchè è stato fuori la zone di combattimento no no ne ho uccisi così tanti ah si si è avanti troppo nel no un territorio nemico da che vuoi ma passi esatto adesso sto spondendo non ci si sia in vacanza a bestia steve 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 sono sotto la scala sto spostando rispondare mancano i due secondi buono salendo si aspetta corro di là ah mi stanno sparando non posso neanche andare di là quello era un barile che volendo si può andare anche più sopra è che si vuole granate ah nabbo camperone arrivo 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 di bondi su non puoi perché dice che sei fuori mappono ah su su non puoi mi saranno di no sto salendo anch'io stile aspetta mi arrivo buono dovrei essere arrivato si ci sono ci sei occhio si si sono un po' sono dentro l'odificio aspetta qua si è giusto ci sono giusto mi mi hanno ucciso cavolo no mi hanno ucciso 4 ma mi hanno ucciso arrivo 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 dai all'occhio dai sono qua si ci sono ma è fottiti dai ne hai visto siiii bam guarda si cazzo adesso si 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 ragiona adesso non credo corri 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 è il senso nel 40 no l'MG no ti metti lì davanti alla porta è finita per tutti infatti è fatta che mi cucio giù dove vengo coprire dove sono qua avanti madonna sei su ho sentito il rumore sono appena arrivato non mi hanno ucciso pezzo di merda si sono i milioni ci sono i milioni eh infatti madonna cazzo dimmi chi non sono morto anch'io sono 20.000 persone vacca di no ti posso sparare non ci devo non li ho visti bene pensavo fossero tipo dietro i barili invece erano lì davanti eh l'idea era valla vacca di ma ero proprio così anche se venivano cioè dovevo un po' protetto ah buono sono nato e sono anche vicino alla scala ma stanno sparando anch'io eh esatto insieme però spera che mhm eh ci sono i russi la sopra occhio si sono l'ho ucciso uno stanno uscendo dalla porta ma siamo sglamati oh non c'è un altro dai ti copri io vediamo che si è bloccato di eh ti vedo anch'io che ti blocchi sulle scala adesso ma ho fatto si blocca aspetta che ti ricarico eh non ci sei come qua eh aspetta che sei un occhio 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 sto mirando devo col figlio di bagassa eh sei pronto? non è l'agra nata e io aspetta che prego su aspetta che vieni su tu allora perché anche io ero sotto a coperti secondo me aspetta un attimo arrivano anche altri i nostri compagni che non sono maggiore io sto qua dentro sotto la porta a sparare che devo che hanno l'ho ucciso non posso ucciderli qua qua c'è una cosa vado su con le gran aspetta aspetta copri no si è incastrato di nuovo o lo stile che sono qua aspetta aspetta oh ho danza una granata dimmi che ne ammazza qualcuno esplosa siiii team kill vaffanculo grande ma non è possibile neanche lì dentro non è possibile è la vuota che stai la vuota che stai la vuota vicepino bene ucciso due ok ho non fare team kill qualche è facile granata scappa sto ricaricando sto ricaricando come tu vuoi vuol dire hai fatti tu nella tua squadra orpè se si mette davanti mentre sparo buono son cucciato son pronto a parare il culo allora io fa una cosa tu io copro l'angolino se non si mette vedi che mi sono messo io sto avanzando sempre di più di buon c'è un'unica si sta avvenendo ah che c'è uno è ucciso c'è uno con la mg aspetta che crepi con lì putti l'amg ahahah ahahah come si fa a prendere le altre contro sempre quello che usi anche per per usare ah no dimmi che l'ho preso su ti hanno ucciso porca ucciso hai visto mi sa che mi hai visto diretta come l'ho ucciso nooo che ah hanno finito le rinforzioni bella aspetta devo scrivere il boccia sorry man infatti l'accelino adesso sono tutti su perchè adesso hanno finito le rinforze sono tutti su al corpo no 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 là 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 l'accelino l'accelino ah ma tu ah ma vedi tipo adesso io vado su ogni persona che uccide vado su di un livello con l'arma ero livello 1 sono stato su livello 7 con la carne ma va a caso abbiamo vinto grandi buttei ciao a tutti e ci si vede alla prossima grazie